ciao oggi ho messo la solita base della loving nail su tutte le unghie poi ho rispolverato questi della kiko che erano della collezione di san valentino e l'ho messo nel mignolo e nell'anulare ed è il numero 02 poi ho preso questo sempre della kiko che è il numero 58 e l'ho messo sulle restanti unghie adesso prendo il numero 56 sempre questi della kiko e ne metto una cucina nella vaschetta prendo un pennellino il colore qui nella vaschetta e inizio a fare adesso non so se posso chiamarla French o chissà cosa che la faccio qui di lato e riempio questa parte con questo colore dorato e da questo lato la faccio dalla parte opposta prendo questo giallo della kiko che è il numero 31 e una cucina nella vaschetta il pennellino e ci faccio un cuoricino e ci faccio un po' di fare ne faccio uno anche da questa parte fatti i due cuoricini poi prendo un dotter a punta piccolina e sempre con il giallo aggiungo dei puntini ho messo questo top coat della Kiko che non so neanche più se ci sia perché so che li hanno cambiati adesso sono di questo formato quadrato così per cui questo non so neanche più se ci sia comunque visto che ce l'ho ho messo questo top coat e questo è il risultato l'ho fatto anche nell'altra mano spero che vi piaccia ciao ci vediamo alla prossima e grazie se avete guardato anche questo video ciao e grazie mille